e tanta voglia per tutti ragazzi io sono ferrix e siamo qui come ogni domenica con le vostre clip come sempre selezioneremo le 5 migliori clip della settimana e ve le mostreremo qui un ringraziamento a tutti voi perché siamo arrivati all'episodio numero 10 e lasciatemi tantissimi like per farmi capire che vi piace questa serie e che volete che vada avanti andiamo a vedere subito che c'è in quinta posizione questa settimana quinta posizione ragazzi per lucas che ci porta su counter strike e fa una specie di trickshot l'ho messo in quinta posizione perché non mi sembra un trickshot completo comunque merita la menzione quarta posizione ragazzi per umberto che è un altro codi a tutti i mezzi volanti e con una pistoletta fa fuori prima un elicottero poi in arriva un altro lo vede lo punta lo mira però questa volta col cecchino abbatte il pilota e lo fa fuori ragazzi terza posizione è terzo perché immaginate cosa abbiamo in seconda e prima posizione ragazzi abbiamo lollo tnt che fa un qualcosa di folle su advanced world 4 11 di fila 11 di fila senza morire è vero gli sono andati tutti in bocca ma sempre 11 di fila ragazzi veramente complimentoni ragazzi seconda posizione folle per trassi youtube guardate parte con la moto fa un'acrobazia folle e poi guardate cosa fa guardate scende col personaggio e si mette qua sopra sopra a un traliccio pazzesco prima posizione voi direte ma cosa c'è di più folle di quello che abbiamo visto prima beh abbiamo qua abbiamo cristiana che si butta col paracadute sembra una normale discesa in paracadute invece guardate cosa fa prima passa attraverso questa gru è già qualcosa di folle ma poi guardate dove atterra col paracadute vedo un traliccio e ci si posiziona sopra pazzesco ragazzi bene ragazzi il video finisce qui come sempre nei commenti fatemi sapere se la pensate come me per quanto riguarda la classifica che ho fatto e noi ci vediamo in un prossimo video bella